Gabriele ha 22 anni, è portoghese e sta cercando lavoro. È disposto a trasferirsi in un altro paese dell'Unione Europea. In Svezia, Ingrid gestisce una piccola impresa e ha un posto vacante nella sua azienda. Qui interviene il tuo primo lavoro EURES. È un progetto europeo di mobilità che aiuta i giovani tra i 18 e i 35 anni a trovare un lavoro, tirocinio o apprendistato in un altro paese dell'Unione Europea, in Norvegia e in Islanda. Aiuta anche i datori di lavoro ad assumere personale con competenze specifiche carenti nel proprio paese. Gabriele viene a conoscenza del Il tuo primo lavoro EURES e scopre che il servizio per l'impiego che si occupa dell'iniziativa può offrirgli un sostegno pratico e finanziario. Ingrid non riesce a trovare il candidato giusto per il suo posto vacante in Svezia. Si mette in contatto con il servizio Il tuo primo lavoro EURES e accede ad un più ampio bacino di candidati. Il servizio per l'impiego seleziona Gabriele per un colloquio video con Ingrid. Il colloquio è andato bene e Gabriele ottiene il posto. Inizierà tra qualche settimana. Il tuo primo lavoro EURES può aiutarti con le spese di viaggio e soggiorno, la formazione linguistica, il riconoscimento delle qualifiche e offrire un'indennità supplementare ai giovani con esigenze speciali. Ingrid da parte sua potrà richiedere assistenza per iniziare un programma di inserimento. Questo pacchetto di sostegno, che include formazione e tutoraggio, è pensato per agevolare il più possibile la transizione, sia per Gabriele che per l'azienda. Sono disponibili anche pacchetti simili per inserire tirocinanti o apprendisti. Tutti i contratti devono durare almeno sei mesi e rispettare la normativa nazionale in materia di lavoro. Il tuo primo lavoro EURES assiste giovani in cerca di lavoro, tirocinanti, apprendisti ed attori di lavoro in più modi, cominciando dall'abbinare i profili dei candidati alle reali offerte di lavoro in Unione Europea, Norvegia e Islanda. I giovani possono fare il proprio ingresso nella vita professionale e i datori di lavoro trarre vantaggio da una più ampia rosa di candidati qualificati per rendere più innovative e competitive le loro imprese. Il tuo primo lavoro EURES, per semplificare le assunzioni e il lavoro in Europa.